Che vivere è quello che non so, quando si mette in te, che il freddo si esceva dentro, come che in quattro orasco ti vuol dire, come che si vuol dire, come che si vuol dire, non ha la vita. No, non ha la vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.